Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial Oggi andremo a vedere come creare una semplicissima light texture con Gimp Perché è vero, ne trovate a migliaia dentro siti come DeviantArt Piuttosto che cercando con i motori di ricerca, in particolare su Google Sì, ne trovate tantissime Ma magari non trovate la light texture a cui avevate pensato in quel momento Con i colori che desideravate, le misure soprattutto Perché molto spesso, sì, ci sono light texture molto grandi Ma anche molto piccole Quindi magari trovate la fantasia che vi piace Ma la misura è troppo piccola Quindi la ingrandite e perde di definizione Quindi siamo da capo Io spero anche di poter presto fare un tutorial per Photoshop Sempre per le light texture Ma intanto godetevi questo e spero che sia piuttosto semplice Inoltre, sopra ora comparirà un link Per mostrarvi come applicare la light texture alle vostre foto e alle vostre immagini Ma vi lascio il tutorial Un bacione Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a creare il nostro file di partenza Andando perciò su file, nuovo Impostando come larghezza 1280x800 Almeno questa è quella standard che uso io solitamente Andando su opzioni avanzate E impostando come colore di sfondo Anzi, riempi con colore di sfondo Cambiamo e mettiamo colore di primo piano E clicchiamo su ok Fatto ciò ci aprirà la nostra immagine Che io, nella visuale Provo ad andare a ridurre Per mostrarvi meglio Ok, in questo modo Come svolgere il tutorial Altrimenti troppo grande E rischiamo di essere dispersivi Allora, come vero, primo e proprio passaggio Dobbiamo andare a creare un nuovo livello Da livello Nuovo livello Impostare la larghezza e l'altezza di default E trasparenza come tipo di riempimento di livello Cliccare su ok E andare ora a creare l'elemento fondamentale della nostra light texture Il bagliore di fondo Andiamo sul pennello Che è appunto questo strumento Un pennellino con la punta nera Clicchiamo E scegliamo il pennello Sparks Che è un cerchiolino giallo con l'alone rosso attorno Io mantengo come scala 1,00 Non aggiungo ulteriori opzioni qui sotto E lascio l'opacità al 100 E inizio ad andare a disegnare la mia texture Mi raccomando sul livello nuovo che avete appena creato Questo è fondamentale Allora Iniziamo andando a disegnare Io non ho pensato ad un disegno particolare Semplicemente come vedete vado a creare degli swirls di luce Un po' come piace a me In questo modo Ovviamente potete andare a creare anche altro Ad esempio Torniamo indietro Modifica Annulla pennello Modifica Annulla pennello Non lo so Potreste scrivere il vostro nome O fare un'onda O Qualunque altra cosa Se ad esempio ingrandite il pennello Mettete una scala Tipo Così A 3,30 Avrete una punta del pennello più grossa Quindi non lo so Potreste fare una cosa del genere Questo dipende dal vostro gusto Fondamentalmente Io Tendo a rimanere sempre sui pennelli abbastanza piccoli Perché li preferisco Perché li ritengo più raffinati Più Sottili Più fini Potete fare anche Pezzi distaccati Non necessariamente Come dire Uniti Ok Siamo andati a creare la nostra fantasia Devo dire che Sono piuttosto soddisfatta E ora Un altro passaggio fondamentale Quello è andare Alla barra degli strumenti Colori E cliccare su Desaturazione Desaturandolo Andiamo a impostare Non lucentezza Bensì luminosità E poi clicchiamo su Ok Ora bisogna andare ad applicare il colore Alla nostra light texture Questo lo si fa Creando un nuovo livello Sopra al livello del bagliore Ok E andando ad esempio Sul gradiente Allora Voi sapete Potete scegliere Tra moltissimi gradienti Messi a disposizione di Gimp Nel caso in cui Non ce ne fosse Uno che vi piaccia Potete andare Nella colonna di destra E c'è Un'iconcina qui in basso Che è un foglietto Con una matitina Che vi permette Di modificare Il gradiente Questo abstract 2 Devo dire Mi piace piuttosto E mi intriga Devo essere sincera Secondo me Il bello del fare Una light texture È che ogni volta Vi verrà un risultato diverso Che potete sperimentare Un sacco di tipi di gradiente Quindi Io vado Qui E disegno Il mio gradiente Andando poi su Modalità E cambiando Da normale A colore Otterrete Questo effetto Che devo dire Veramente Secondo me Molto 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 Bello E molto luminoso Poi ovviamente Dovrete salvare Il vostro file In file Salva con nome Salva come Ed impostare Ovviamente Il formato come JPEG O come JPEG E niente Questo era il tutorial Per creare Una light texture Vi do appuntamento Al prossimo video tutorial Mi auguro Che sia stato Abbastanza chiaro E semplice E vi mando un bacione Ciao